Assegnati dalla Regione agli istituti scolastici siciliani 26 milioni di euro per l'acquisto e l'installazione di attrezzature digitali, compreso il traffico dati e per la riqualificazione degli ambienti scolastici, a garanzia della sicurezza e del distanziamento individuale. Abbiamo dato attuazioni a quanto previsto dalla finanziaria 2020 a sostegno delle istituzioni scolastiche, afferma l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, confermando l'impegno del governo Musumeci per il potenziamento della dotazione informatica a supporto della didattica a distanza e per il miglioramento e la riqualificazione degli ambienti per la ripresa delle attività didattiche in presenza. Con l'erogazione di queste risorse, peraltro, la Regione intende anche favorire l'acquisto da parte delle scuole dei dispositivi di protezione FP2 per i docenti di sostegno in ogni ordine di scuola e per gli insegnanti dell'infanzia, ma anche delle attrezzature di filtraggio dell'aria per l'utilizzo nei locali meno areati, così come era stato consigliato dal Comitato Tecnico Scientifico regionale. In particolare, 8 milioni di euro sono destinati all'acquisto di tablet da consegnare in comodato d'uso agli studenti per la valorizzazione della scuola digitale. Saranno distribuiti a 468 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia che hanno partecipato all'avviso pubblicato all'inizio di dicembre. 18 milioni di euro sono destinati agli interventi di edilizia leggera nelle scuole per consentire il distanziamento interpersonale e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Interventi questi ultimi di cui beneficeranno 410 scuole dell'isola che hanno avanzato da relativa istanza. La ripartizione nel territorio vede assegnare alla provincia di Agrigento 869 mila euro per l'edilizia leggera. Sono 20 le scuole destinatari e degli interventi. Sempre la provincia di Agrigento per le attrezzature digitali ha avuto assegnati 459 mila euro e 25 sono le scuole interessate.